Allora eccoci, ci troviamo in via Torti, siamo in via Torti in cima all'inizio di via Donghi, negli ultimi palazzi costruiti nella via, quindi i palazzi più belli, i palazzi principali già in cemento armato. Siamo al penultimo piano di questo appartamento, di questo palazzo in questo appartamento che è stato, che è molto in ordine, che praticamente è ristrutturato ed è composto da questa zona di ingresso che abbiamo appena visto, questa è la porta di accesso, quindi abbiamo questa zona di ingresso, tre camere da letto, zona giorno molto grande, cucina abitabile e bagno e dispensa. Quindi qui entriamo, abbiamo la zona giorno, che è grande dove c'è sia la zona soggiorno che la zona sala da pranzo, qui alla nostra sinistra abbiamo la prima delle tre camere da letto, alla nostra destra c'è la dispensa e proseguiamo. Proseguendo abbiamo la cucina abitabile, molto grande, la cucina abitabile con il balcone e l'esposizione verso est, questo è il balcone, questa è via Donghi e questa è via Torti. quindi rientriamo in cucina e andiamo a vedere le altre due camere da letto e il bagno, quindi qui alla sinistra abbiamo una camera singola, qui una camera matrimoniale molto grande, grandissima, ci facciamo una panoramica della camera e davanti a noi abbiamo il bagno, il bagno attrezzato di vasca con doccia, gli infissi hanno i doppi vetri, riscaldamento centralizzato, l'acqua calda invece è autonoma. Quindi ripercorrendo un attimo il nostro giro abbiamo camera singola, camera matrimoniale molto grande, cucina abitabile con il balcone, questa grandissima e ampissima zona giorno che è collegata alla zona di ingresso, quella alla porta di accesso, questa è la dispensa e qui abbiamo la terza camera da letto, questa è più piccolina delle altre ma comunque come si può vedere ci sta un letto matrimoniale ed eventualmente si può sfruttare, come l'hanno fatto adesso, un armadio in questo grande ingresso che espone poi sulla zona giorno. Ecco e qua terminiamo il nostro giro.